Alle ore undici del quattordici luglio, dalla camera usciva Togliatti, quattro colpi gli furono sparati da uno studente e bile senza cuor. L'onorevole a terra colpito, soccorso venne immediatamente, grida e lotto ovunque si sente, corron subito deputati e dottor. L'assassino è stato arrestato dai carabinieri di Monte Citorio e davanti all'interrogatorio ha confessato dicendo così. Già da tempo io meditavo di riuscire a questo delitto. Appartengo a nessun partito, è uno scopo mio personal. Rita Montagnana che al Senato, con i dottori e tutto il personale, ha condotto il marito all'ospedale, sottoposto all'operazione. L'onorato chirurgo Baldoni, con i ferri che sa ad operare, ha saputo la pallottola allevare e la vita a potergli servare. Il gesto insano, brutale e crudele al deputato dei lavoratori. protestino contro gli attentatori della pace e della libertà. L'onorevole Togliatti auguriamo che ben presto ritorni al suo posto a difendere il paese nostro, l'interesse di noi lavoratori. a difendere il paese nostro, l'interesse di noi lavoratori. a difendere il paese nostro.